signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale nelle ultime settimane abbiamo parlato di nega dungeon e misery crawl quelle che sono le situazioni di gioco pensate per mettere in difficoltà i giocatori sono gli ambienti in cui gli incontri saranno più difficili e i giocatori avranno anche meno risorse rispetto al normale per uscire da queste situazioni nel corso dei video ho spiegato come questa non deve diventare una scusa per il master semplicemente per torturare inutilmente i suoi giocatori o offrire quella che non sia una sfida più difficile ma semplicemente una situazione impossibile da cui uscire dubito fortemente però che il fatto che il master kai laggiù sull'internet l'abbia detto possa essere effettivamente utile a fermare qualche maniaco che abbia deciso di sfogare i suoi istinti sadici su dei poveri giocatori sfortunati almeno per ora quindi se il problema non può essere fermato da un lato c'è sempre la possibilità di cercare di arginarlo dall'altro questo infatti è un video della serie del per i giocatori pensato appunto per essere una serie di adagi da fornire ai giocatori per riconoscere quella particolare branca di pessimi master nota come master killer cioè quelli appunto che si divertono semplicemente ad ammazzare i personaggi e i loro giocatori e come evitarli non perdiamo altro tempo quindi andiamo a vedere come riconoscere ed evitare i master killer se questa è la caverna dove il vecchio ci aveva detto di andare o entriamo vediamo cosa ci sia dentro dentro la caverna vive un antico grado rosso che si infuria per la vostra intrusione e ovviamente vi attacca ma siamo di terzo livello probabilmente il tratto distintivo di ogni pessimo master che si aggire là fuori è quello di forzare i personaggi in situazioni disperate o comunque situazioni da cui loro non possono uscire senza però che questo sia una conseguenza delle scelte dei loro giocatori la parte fondamentale appunto questa è perfettamente plausibile che un gruppo di giocatori si trovi in una situazione in cui i loro personaggi sono fondamentalmente morti o comunque per cui uscire richiederà enormi sacrifici che può essere la perdita di un membro del party o anche solo sacrificio di equipaggiamenti poteri o quello che è ma queste situazioni devono sempre risultare dal fatto che il party cioè voi giocatori avete fatto delle scelte che evidentemente non erano così astute come pensavate e quindi la situazione in cui vi siete cacciati è una conseguenza delle vostre scelte se il party sta viaggiando lungo una strada e in lontananza vedono un esercito che ti si sta radunando e decidono di caricarlo a testa bassa il fatto che siano di fronte a uno scontro di 4 personaggi contro 4000 png è palesemente una conseguenza del loro scarso giudizio e quindi non possono recriminare contro nessuno se non con loro stessi ma se il party sta camminando lungo una strada e dal nulla compare davanti a loro un esercito che li attacca questa non è una conseguenza del fatto che loro stessero camminando lungo la strada e palesemente un abuso da parte del master e dovrebbe essere evitato dannazione ho finito il caricatore vabbè come azione come mezza azione cambio il caricatore e poi come azione standard sparo un colpo punti e spari ma il fucile facilecca senti il click del percussore ma il caricatore vuoto quindi non spari ma mi sono portato dietro tre caricatori di riserva sì ma avevi finito i proiettili nella missione precedente non è mai dichiarato che ricaricavi i caricatori intrinsecamente collegata alla tendenza a forzare situazioni c'è anche la tendenza di molti master killer a ignorare qualsiasi cosa sia semplicemente normale buonsenso da parte dei personaggi a meno che non sia stata reiterata fino all'esaurimento salvo casi eccezionali che però devono avere una giustificazione testuale cioè una giustificazione che compaia all'interno della quest si dovrebbe sempre dare per scontato che i personaggi dei giocatori siano dotati di un raziocinio normale del buonsenso tipico di una qualunque persona e anzi probabilmente in alcuni giochi anche di più dato che loro non sono comuni persone ma sono gli eroi della storia se del cibo è palesemente avariato qualunque persona dotata di un'intelligenza media se ne renderebbe conto di conseguenza anche un pg dovrebbe rendersi conto di quello che sta per mettersi in bocca e cibo avariato anche se il giocatore non l'ha espressamente dichiarato allo stesso modo il guerriero di quattordicesimo livello che dice che entra nella stanza lo farà guardandosi intorno sicuramente non si dà per scontato che lo faccia mentre aggiorna le notifiche di whatsapp allora provo a mettere a posto il motore a curvatura malfunzionante usando i miei arnesi da meccanico e facendo un tiro di riparazione beh in teoria sì ma hai provato a maneggiare il motore senza divattivare prima il compensatore di heisenberg né staccare l'esclusore di fermi questo porta a un collasso totale del campo quantistico e quindi la violazione della continuità spazio-temporale causa un collasso dell'intero universo a livello subatomico qui devono anche essere prese in considerazioni le palesi differenze che ci sono tra il giocatore e il suo personaggio il personaggio potrebbe essere il più grande meccanico della galassia ma il suo giocatore fa il fioraio e ha avuto anche difficoltà a prendere la patente del motorino di conseguenza quello che è buonsenso per il più grande meccanico della galassia potrebbe non esserlo per il suo giocatore che non è tenuto ad avere una laurea ingegneria per giocare al gioco il master dovrebbe quindi tener conto anche di quello che magari per il giocatore non è affatto scontato ma è scontato per il personaggio e avvertire di conseguenza il giocatore quando sta per fare qualcosa che non avrebbe senso il suo personaggio facesse questo discorso poi si applica ancora più nello specifico per tutti quegli ambiti che all'interno del mondo di gioco sono effettivamente reali e cose con cui i giocatori hanno a che fare tutti i giorni ma che in realtà non hanno un loro equivalente nel mondo reale un mago dell'ambientazione fantasy ha fatto cinque anni di accademia magica ed è un grande professionista nell'avere a che fare con l'energia arcane ovviamente nel mondo reale la magia non esiste di conseguenza non c'è nessuno che possa avere una reale professionalità in questo campo allo stesso modo in ambientazione di fantascienza tecnologie inventate all'interno della quest potrebbero essere ben conosciute ma non essere conosciute i giocatori anche perché poi in mente nella realtà neanche funzionerebbero in questo ambito che cosa possa essere non essere buon senso per i personaggi al massimo può essere inferito all'ambientazione o dal regolamento quindi il master dovrebbe dare per scontato che i personaggi questo buon senso ce l'hanno dato che nello specifico i giocatori non potranno mai averlo anche volendo questi però sono solamente alcuni di tutti i possibili chiamiamoli errori che il master killer può fare solo che mentre stavo lavorando questo video mi sono reso conto che sarebbe diventata qualcosa di effettivamente troppo lungo quindi diciamo che per questa settimana terminiamo qui ma settimana prossima in via del tutto eccezionale andremo avanti e vedrete la seconda parte del video che in realtà ho anche già registrato fino ad allora come sempre se avete domande dubbi perplessità scrivete tutto nella sezione dei commenti qui sotto e scrivete anche se magari avete qualche altra cosa da far notare non è detto che voi non si faccia una terza parte di questo video ovviamente se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate i link al server di discord a gruppo i telegram dove metto io gli annunci manualmente dove trovate anche il resto della community del master cae io sono il master cae e noi ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao